Volevo fare un grande saluto a tutti i ragazzi della nuova accademia di calcio Milano United a Miami che è diretta da un mio ex compagno di calcio e amico Davide. Lui era anche più forte di me a quell'età, poi purtroppo si è un po' persa. Vi abbraccio forte e giocate sempre con passione per divertirvi. Ciao!